Ciao a tutti, io sono Dumi e oggi andiamo a vedere cosa stanno facendo i nostri medici. Qua abbiamo la Nathalie che in questo momento sta facendo uno scan. Allora, qua abbiamo altri pazienti che stanno aspettando in sala d'attesa. Allora, qua abbiamo altri pazienti che stanno aspettando in sala d'attesa, non abbiamo tutti pazienti che stanno aspettando in sala d'attesa. Come stai facendo? Minti, è così. Corrado, non abbiamo fatto un problema. Come pubblichiamo in sala d'attesa. Vai a vedere. Ciao. 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 il dottor Palmas oggi era molto molto impegnato e l'hai dispiaciuto? no perché era molto impegnato sul suo lavoro ed è carino perché è impegnato si era molto carino era impegnato sul suo computer strano proprio strano dimmi cosa mi hai detto su dottor Michele che lui lui è fantastico ha una pazienza infinita sul suo lavoro e con i pazienti è meraviglioso oltre che bello Grazie a tutti Noi invece abbiamo il nostro dottore, il dottor Basile, che ora sta facendo una vista di controllo. Ciao, nonna! Ciao, Dani! Però tra due giorni si torna a casa! Cos'hai fatto oggi? Allora, oggi sono andata con il dottor Palma a fare i corsi, cioè lui mi fa cioè i corsi. Cosa stai guardando lì? Fammi vedere. Poi invece abbiamo il nostro assistente medicale che stanno preparando i corsi. preparando la sala per l'intervento chirurgicale. Qui invece abbiamo chiesto il nostro fotografo che ora sta facendo delle foto ad un nostro paziente. Ciao papà! Come sono il tuo papà? Sono il tuo papà! Mio papà? Sì! E ciao papà! E di ciao papà! E ciao papà! E ciao mamma! E ciao mamma! Io ho fatto questo salvatanaio a forma di casetta con la fragolina per Ida. Parigi! 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 Allora qua siamo alla pizzeria Caruso! Parigi! 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 Ciao! Ciao! Come stai? Tutto bene! Bene! Raccontaci un po' come è detta la prima visita! Emozionante! Sì! Comunque bene! Molto professionale! E rassicurante! Parigi! 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 Rad